Io partirei con la seconda concorrente, Chiara ci presenta Zobbia. Un bel applauso ragazzi, dai dai che si stanno facendo in città. Buonasera a tutti, allora, visto che io sono pazza, che sono Stein, oggi ci si canta uno più di un altro anime, perché sì. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti.